Italia 1! Su Italia 1, l'avventura continua! Annalisa ci guiderà nel più grande centro spaziale di osservazione della Terra per scoprire lo stato di salute del nostro pianeta. Incontreremo il massimo esperto di asteroidi e conosceremo Paolo Nespoli, il prossimo astronauta italiano che partirà per una lunga missione nello spazio. Tutta colpa di Galileo, domenica dopo le iere. Su Italia 1.